Pierucci elettrodomestici a Semonte di Gubbio presenta le grandi offerte del momento Piano cottura a partire da 99 euro Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con TRG Passiamo ora ad analizzare la giornata di domenica 11 febbraio Che vedrà una giornata stabile e soleggiata su tutto il territorio umbro Solamente in appennino di primo pomeriggio A partire dal primo pomeriggio avremo nuvole più consistenti ma con scarso rischio di precipitazioni Le temperature minime si attesteranno intorno ai 0-1 gradi Mentre le massime si attesteranno intorno ai 6-8 gradi e saranno in lieve risalita Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento Grazie per la visione